Che cosa lega un uomo e una donna? L'attrazione, il desiderio. Senza quello la loro vita di relazione non ha alcun senso. Sì, poi negli anni si imparerà a stare insieme, si imparerà a stare l'uno vicino all'altro alla giusta distanza, come diceva Schopenhauer, come diceva anche Montaigne, ma per molto tempo il perno del legame è quell'attrazione. Spazza via l'idea profondamente malata che la sessualità debba essere accompagnata da sempre dall'affetto. Qualche giorno fa ho letto un email di una signora che andava da uno psicoterapeuta perché lei a un certo punto si è innamorata di una persona per cui aveva una passione, un desiderio sessuale irrefrenabile, qualcosa di incontrollabile. Non vedeva l'ora di vederlo per fare l'amore. Il suo psicoterapeuta le ha detto a varie signore che lei rischia tantissimo perché lui è più giovane di lei e un giorno la lascerà per un'altra. Insomma questa signora è rimasta profondamente frastornata dalle parole del suo psicoterapeuta. Lo dico una volta per tutte, chi fa un lavoro come il mio non è lì per dare consigli, non è lì per guidare nessuno, è lì per guardare ciò che accade, ciò che accade. Se dentro di te compare il desiderio, quel desiderio, quel desiderare un uomo, quel desiderare una donna, non è fatto né per sposarsi né per fare i bambini. Arriva il desiderio per un motivo decisivo. Noi facciamo l'amore per un motivo decisivo, per la nostra metamorfosi. Così come in basso, nelle parti basse, una secrezione spermatica fa un bambino al momento giusto e un ovulo in una donna fa un bambino, allo stesso modo il desiderio, l'eros, in alto, nel cervello, nell'anima prepara la metamorfosi. Cioè noi facciamo l'amore perché il bacco che siamo, il verme che siamo diventi una farfama. Quindi ha sbagliato profondamente quello psicologo a dire alla signora di bloccare il desiderio verso un uomo che le faceva conoscere orgasmi mai raggiunti. Perché quegli orgasmi mai raggiunti, quel protrarsi dell'orgasmo in lei, essere riuscita a divorziare dopo tanti anni in un rapporto che non funzionava, aver conosciuto un piacere che non pensava potesse esistere, quel piacere serve alla metamorfosi. Non esiste l'anima gemella nella permanenza. È un'idea molto sbagliata. È l'uomo della mia vita, è la donna della mia vita. È l'uomo della mia vita, è la mia vita in questo momento per farmi provare e conoscere quella quantità di piacere che permette a me di evolvere. Questo è l'eros. E allora si deve imparare a fuggire gli amori tormentati. Quali sono quelli tormentati, quelli di cui ci accorgiamo immediatamente? Si deve imparare che quel desiderio e che viene a trovarti una benedizione, che può turbare il tuo io, perché è fatto di certezze, di ragionamenti, mentre l'eros irrompe, come insegna Dioniso, come una forza che spazza via tutti i luoghi comuni, tutti i pensieri, l'idea che ti sei fatto della vita, del matrimonio. Il sesso è una presenza che attraverso l'attrazione fa ritrovare il sacro, l'eterno, gli dèi che abitano dentro di noi. Bisogna avvicinarsi come se si andasse incontro a qualcosa di sacro. Allora l'eros ci regala veramente il nostro destino. I miei maestri dicevano che un buon amore da cosa si capisce? Da cosa si capisce un buon amore? Dal fatto che non vedi l'ora di vederlo, di saltargli addosso e dal fatto soprattutto che ti accorgi che arrivano dei doni. Il tuo lavoro migliora, gli occhi diventano più belli e tutti ti dicono ma che occhi hai? Non sarei mica innamorato? E soprattutto che le cose diventano facili, che cose che prima non è realizzato come sogni si avverano. Giuliana mi scrive e mi dice vorrei tanto migliorare il mio rapporto di coppia che non funziona. Cara Giuliana, i rapporti non si migliorano. Sono le performance sportive che si possono migliorare. Salto in lungo fatto 8 metri. Mi piaceva arrivare a 8 e 20, mi impegno per arrivare a 8 e 20, ma nelle cose dell'amore non è così. Non c'è niente da migliorare. Ci sono delle cose di lui che non ti piacciono? Ci sono delle cose di te che non ti convincono quando sei con lui? Se devi migliorare la relazione, vuol dire che stai costruendo una relazione che non c'è. Un mio paziente, Francesco, un giorno mi ha detto questa frase che mi è piaciuta molto. Provenivo da due anni di un rapporto molto contrastato. Un giorno lei mi ha detto senti caro, se ci mettiamo di impegno tutti e due vedrà che riusciamo a stare insieme bene e poi ci sposiamo. Lui mi ha detto, salto dottorio, io ovviamente tornavo a casa, avevo un tavolo dentro di me che mi rodeva, mi rodeva. Poi ho detto una frase in un suo libro dove io dicevo, non me lo ricordavo neanche più, che se nelle cose dell'amore ti devi impegnare, stai creando una relazione fondamentale con l'altro e con te stesso. L'amore non vive nel tempo, è fuori dal tempo. non ci appartiene, non siamo noi a poterlo guidare. Quindi se mi devi impegnare per star bene con te, è come se fossi sui banchi di scuola ci fosse un professore dentro di me che mi dice, comportati così con lei, non dirle questa cosa, dirle quell'altra, non essere spontanei, ma l'amore è il luogo della spontaneità. Questo significa che a volte ci saranno litigi profondi, a volte ci saranno geni, a volte coinvolgimenti immensi, ma tutto questo fa parte del gioco. Se dobbiamo migliorare la relazione, stiamo creando una relazione molto, molto artificiale. Giorno mi tiene, dottore mi sento spenta, come vi accendo la passione? Ma la passione non viene a comando. Abbiamo bisogno di essere spenti perché la passione, essere spenti cosa vuol dire? Vuol dire che il terreno, in qualche modo, sta estirpando i pensieri inutili che sono come le erbacce, le cose inutili, perché la prossima passione che arrivi non venga consumata o usata come tutte le altre. I rapporti finiscono sempre allo stesso modo. Michela mi dice i miei rapporti finiscono perché il mio lui che incontro prima o poi finisce per venutermi. Ma i rapporti non sono fatti per illudersi, sono fatti per godersi. Dureranno o non dureranno? Ma se io mi aspetto una persona che deve corrispondere ai miei canoni, io non sto con lui, sto con i miei canoni e quindi farirà quanto prima. Molti mi chiedono ma secondo lei come la vede lei la terapia di coppia? La vedo malissima, la vedo malissima. La coppia è fatta di due individui che devono scoprire dentro di sé che cosa desiderano, cosa piace loro, che cosa li attrae e come stare insieme all'altro. Ma ciascuno deve farlo da dentro di sé. Se andiamo insieme andiamo a imparare uno standard, andiamo a imparare come comportarci insieme e quindi perdiamo la spontaneità, la naturalezza. così come quando cade il desiderio. Se cade il desiderio bisogna prendere l'atto che cade. L'importante è quando c'è una crisi, importantissimo, mai fare il progetto, mai fare il progetto di risolvere la crisi. Perché la crisi spesso arriva. La prima crisi deriva dalla crisi, dal vero trasformare. Spesso la crisi viene perché noi ci ritroviamo ad altri livelli operativi, in altri modi. Ma sarà l'essenza a fare in modo che stiamo insieme come serve a tutti e a noi e non come serve l'uno o all'altro. Ultima cosa, vengono in estero riscaldati. C'è un posto che è arrivato in questi giorni che dice io avevo lasciato mio marito, stavo benissimo, poi gli amici, le persone intorno, ma sì, una così brava persona ha fatto tutto per stare insieme e ho cominciato a riscaldare. I rapporti quando sono finiti, sono finiti. Spesso si torna insieme perché magari entrambi soffriamo di solitudine, però sono dei surrogati. Se sono finiti, sono finiti. Si prende l'atto che sono finiti. Ritornare insieme spesso è il modo peggiore per annientare le proprie essenze, le proprie diversità. Senti la solitudine, bene, percepisci la solitudine e vivi in un certo periodo nella solitudine, ma se hai deciso di lasciarlo o di lasciarla e vi siete già staccati, siete separati da un anno o due, tornare insieme spesso è la peggior soluzione. Anche se magari il rapporto dura, ma siccome si è persa la spontaneità, la creatività, si rischia di vivere nell'avidità. E' un problema. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.